Questo ormai è uno tsunami, uno tsunami di voglia di Napoli. Ormai non è più un evento il turismo a Napoli, è solo un impegno per tutti noi, per tutti i napoletani di fare sempre di più e meglio per rendere Napoli più accogliente, con servizi più efficienti. Questo è un risultato straordinario che la città ha fortemente voluto, che noi abbiamo fortemente voluto proprio nel momento di maggiore crisi del paese e di crisi anche della nostra città. Quindi siamo veramente soddisfatti, perché poi il clima è buono, io la sto girando tanto, come sempre Napoli, tutti i quartieri, io ho fatto tre ore tra Forcella e Tribunali, quindi zone anche complicate. Ho visto tanta gente che ha voglia di esserci, ha voglia di riscattarsi, di liberarsi, di dimostrare, ecco come ieri mi dicevano gli abitanti di Forcella, che Forcella è soprattutto altro, non è solo una narrazione che ovviamente anche esiste, perché i problemi sono tanti. Insomma, questo turismo aiuta moltissimo la città, perché non è solo un bel vedere, non è solo una dose di ottimismo fine a se stesso, economia. Insomma, noi abbiamo dei dati indicatori sull'aumento dei posti di lavoro, grazie all'industria turistico-culturale, che ci incoraggiano tantissimo, che vanno nell'indotto del commercio, dell'artigianato, dell'impresa. E poi anche la qualità del turismo e anche di come Napoli si sta presentando al mondo. Città accogliente, città piena di cultura, città piena di giovani, città del dialogo, città della pace, città del Mediterraneo. Questo è il nuovo brand del Made in Naples, diciamo, di questi ultimi tempi. Quindi ci stiamo lavorando molto e vedo una risposta straordinaria dei nostri abitanti, dei nostri concittadini.